Arianna Garofalo, studentessa della Scuola Mediall'Area Alpi di Chiaveri, ha vinto la finale dell'Olimpiade di Problem Solving promosse dal Ministero dell'Istruzione. Che esperienza è stata la tua? Ma molto bella perché comunque andare via due giorni senza i genitori insieme ad altri insegnanti e comunque anche altri bambini perché erano le squadre. È stato molto bello e poi comunque è una bella esperienza andare a una gara nazionale perché è di alto livello. Come ti sei preparata a questa gara? Innanzitutto possiamo dire che la prima prova è stata regionale, giusto? All'inizio abbiamo fatto le prove d'istituto in modo da trovare tre di ogni istituto che andassero ai regionali. Dopo i regionali abbiamo fatto ovviamente degli allenamenti di potenziamento e abbiamo fatto la regionale e a questo punto poi io ho svolto altri allenamenti con delle prove un po' più complicate in modo da allenarmi meglio per la finale. Quanti siete partiti da Chiaveri? Da Chiaveri eravamo io e due squadre della primaria, quindi eravamo nove bambini e due insegnanti. In che cosa consisteva la prova? Intanto parliamo di che materia? Matematica, logica ma anche informatica perché ci sono alcune procedure che si troveranno poi nell'informatica. Siamo andati al campus di Cesena che è un'università che è collegata a Bologna e Forlì. È nuova, infatti tutto si sentiva ancora l'odore di nuovo. Ce l'hanno fatto notare anche i ragazzi dell'università e dovevamo svolgere in un'ora e mezza una prova al computer. Prima ci davano la cartacea, poi dopo mezz'ora potevamo inserire già i risultati sulla piattaforma web. E una volta che avevamo finito consegnavamo su internet e la prova cartacea la potevano darla a noi. Alla fine del tempo a tutti hanno dato il foglio con le soluzioni in modo che potevamo già farci un'idea di quanti punti avessimo fatto. A che punto ti sei resa conto che eri ben piazzata ancora prima di sapere che avresti vinto? Subito dopo la prova ho controllato i miei risultati contro quelli delle soluzioni e erano tutti giusti. Allora ero molto contenta e sapevo di aver consegnato dopo due ragazzi, anzi tre. Una ragazza però ho sentito appena uscito che aveva fatto degli errori perché l'ha detto lei. Allora comunque al massimo di peggio sarei arrivata terza. Poi il prof Monti mi ha chiesto quanto prima avevo consegnato, io gli ho detto una mezz'oretta. E allora quando hanno premiato il terzo, lui aveva consegnato venti minuti prima. E allora il prof ha capito che ero sul podio. Ecco, la foto del podio abbiamo modo di vederla. Però quando è stato detto che Arianna si è laureata campionessa olimpica nazionale... Ma quando l'ho saputo ero veramente molto emozionata. Infatti non me l'aspettavo proprio. Sapevo di essere andata bene ma non pensavo ad un livello così tanto alto. E comunque quando mi hanno proclamato ero felicissima. Non sapevo veramente se fosse vero, non ci credevo ancora. E comunque spero che anche l'anno prossimo sia così perché me l'hanno augurato anche quelli dell'università dicendo che mi aspettavano anche l'anno prossimo. Tu hai un telefonino, un cellulare? Sì. Quindi hai chiamato casa? Sì, però in questa gita non si poteva portare. Quindi abbiamo chiamato casa con il telefono dei professori. L'abbiamo chiamato durante la sera perché quando eravamo in treno. Solo che anche appena usciti dalla premiazione i prof hanno mandato sul gruppo un messaggio già con il mio triunfo. Ti hanno rovinato la sorpresa con i tuoi? Infatti io non vedevo l'ora di chiamarli per fargli questa sorpresa, poi ho scoperto che lo sapevano già. E allora cosa ti hanno detto? Quando li hanno chiamati erano felicissimi, infatti pensavano, quando hanno letto il messaggio hanno detto ma va, ma questa qui, ma cosa stanno dicendo, stanno facendo uno scherzo. Invece poi era vero. In questo momento dove la scuola in alcuni casi viene messa in discussione, un risultato, quello realizzato da Arianna ma non solo, da tutta la squadra che si è mossa, evidentemente è un risultato di una scuola vincente. Sì, non sta a me dirlo, però io sono molto orgogliosa del lavoro fatto dai docenti, dai ragazzi perché ovviamente il merito è in gran parte loro che accettano sempre con entusiasmo le proposte che vengono loro offerte. Sicuramente questo è un risultato di grande prestigio perché Arianna si è classificata prima alla fase nazionale degli Olimpiadi fase che era aperta a ragazzi di tutti e tre gli anni della scuola secondaria. Quindi è arrivata prima, concludendo la prova in modo assolutamente perfetto, con il minor tempo rispetto a quello dei colleghi più grandi che appunto lei è riuscita a battere. Io so che dietro al suo sorriso di soddisfazione per questo risultato c'è un altro progetto del quale non ci vuol parlare ma che esiste. Sì, ma come consuetudine della nostra scuola noi parliamo soltanto a cose fatte, quindi siamo molto scaramantici su questo, quindi l'appuntamento sarà, se sarà il caso, più avanti.